A margine della conferenza stampa di presentazione dell'associazione Nuovi Orizzonti, il presidente Antonio Calabrese ha parlato di diversi progetti che spaziano dal sociale fino alla cultura e tocca anche alla formazione. Però prima di addentrarci meglio in ciò che promuovete, in ciò che pensate di fare, vogliamo fare il punto un po' su come è nata l'associazione e il perché e da chi è costruita. Sì grazie Guido, un'associazione che a poche settimane di vita abbiamo scritto il primo comunicato stampa lo scorso 31 dicembre per portare a conoscenza tutti i cittadini di questa associazione che come abbiamo scritto vuole essere rappresentativa non soltanto del comune di Atessa ma del Sangro Aventino e non solo. Poi infatti una delle nostre soci, la vicepresidente, ci darà qualche indicazione ulteriore. Il direttivo è composto da sette persone che se permetti vado subito ad elencarti. La vicepresidente è Daniela Verducci, una imprenditrice nel settore del sociale ma d'altra parte poi nella nostra pagina Facebook abbiamo già sviscerato un po' le caratteristiche di tutti i nostri soci. Poi abbiamo il segretario Alessio Deramo che ci spiegherà il primo degli eventi in programma, il tesoriere Angelo Romagnoli, uno stimato professionista come Assunta Menna, una stimata professionista anche lei. Poi abbiamo Nicola Barducci e Gennaro Sottilini. Qui la caratteristica come dicevamo del fatto che questa associazione che ovviamente abbraccia anche altri comuni, Gennaro in effetti è di Perano quindi è un'associazione che non è soltanto a Tessana pur se nella maggior parte dei soci sono abitanti ad Atessa. Non vogliamo porci limiti, vogliamo realizzare tanti eventi, il primo dei quali come detto poi verrà spiegato dal nostro segretario. Bene Antonio, io avevo glissato forse erroneamente sulla presentazione dei vari partecipanti appunto perché l'avevate pubblicata e con un piccolo curriculum a margine. Ma di quello che mi ha colpito principalmente è il tema della formazione e l'idea della scuola politica e soprattutto parlavate anche in conferenza stampa di fare un trade union con tutti i sindaci e quindi anche qui si può forse bruciare una domanda interessante però me la ricorderò, fare un trade union tra i sindaci e quindi bypassare anche quella sterile poliemica che si è fatta sulla politica. Però andando invece volando più alto sulla formazione cosa potete dire e come volete realizzarla poi? Ecco ci stiamo organizzando perché questo non è un evento tra i più immediati, richiede tempo, dobbiamo convocare tutti gli amministratori del Sangro Aventino per organizzare al meglio le lezioni. La nostra idea è quella di partire con delle lezioni itineranti quindi una lezione forse la faremo ogni mese in un comune diverso, le iscrizioni pensiamo di poterle effettuare e far partecipare tutti quelli che lo vorranno gratuitamente per dare una possibilità a tutti di entrare nel mondo dell'amministrazione della cosa pubblica e per non arrivare poi impreparati un giorno ad amministrare. Quindi rivolto soprattutto ai più giovani, a quelli che magari hanno paura ad avvicinarsi al mondo della politica, un mondo secondo me affascinante che ha bisogno però di gente preparata. Questo è il nostro obiettivo ambizioso però speriamo di riuscirci nel più breve tempo possibile. Non sarà sicuramente come dicevo il primo degli eventi perché richiede tempo, dobbiamo colloquiare con le amministrazioni locali e collaborare anche con tutte le altre associazioni perché questo è anche uno degli obiettivi, lavorare in sintonia anche con tutte le altre associazioni del territorio. Quindi possiamo dire che avete già pensato non quando ma almeno il dove farlo e quali sindaci coinvolgere per prima? Non abbiamo preferenze, noi vogliamo essere inclusivi, non porre delle barriere tra noi e i cittadini, l'associazione è aperta a tutti quindi quelli che lo vorranno saranno i benvenuti, quindi più gente aderirà a questo progetto e più ne saremmo lieti. Ho letto e sentito critiche, poi passeremo anche alla presentazione di tutti gli altri, ho letto e sentito critiche sul collocamento di questa associazione anche un po' da cronista oltre che tutto il resto che mi circonda e sono un po' curioso. Come intendete rispondere? Cosa intendete fare? Ti ringrazio di questa domanda, infatti era una delle prime cose che volevo dire. Nello statuto abbiamo preferito inserire una clausola, non è proprio una clausola però i membri del direttivo non devono essere iscritti a partiti politici perché non vogliamo essere etichettati in nessun modo, come detto la nostra associazione è inclusiva e non è selettiva. Ne approfitto, scusami Guido, per chi fosse interessato perché già avevamo avuto delle richieste, ci conoscete, siamo sui social, potete contattarci in tutti i modi anche sulla stessa pagina dell'associazione e poi saremo noi a ricontattarvi per fissare un primo colloquio. Raccoglitori di idee, quindi che avete un po' paura potete fare scrivere lì sopra nell'anonimato. Con il Vice Presidente Daniela Verducci cerchiamo anche di capire meglio, lei nella presentazione parlava già di aver sentito e di aver percepito un forte interesse in queste idee anche per aumentare il programma che volete declinare. Come si è manifestato e quali idee magari sono già nate da persone che tentate di fare entrare o comunque tentano di entrare forse? Sì, allora abbiamo da qualche settimana, da quando abbiamo iniziato a pubblicizzare questa nostra associazione, abbiamo avuto diversi riscontri non solo nella zona San Groaventino come ha detto il Presidente ma anche da Lanciano, addirittura anche da Pescara e il coinvolgimento è ampio. Pensiamo proprio di andare anche fuori regione nell'accogliere persone che possono darci degli spunti di riflessione e anche per poter realizzare iniziative di vario tipo. Alessio Deramo, che fa parte di questa associazione, sempre nella presentazione ha sottolineato un aspetto fondamentale che intende perseguire, che è quello del sociale, ma sociale dal punto di vista dell'assistenza e delle malattie. Ecco, quindi forse una domanda può essere, diciamo, limitare la sua risposta. Perciò cosa può dirci? Allora, grazie Guido. Allora, niente, la nostra associazione, ecco come diceva anche il nostro Presidente, si occuperà anche di beneficenza. Io con la mia azienda ormai da un paio d'anni faccio beneficenza nella zona del Terramano e attualmente stiamo aiutando un'associazione importante per me perché si tratta dell'associazione fibrosicistica però per quanto riguarda i bambini. Fibrosicistica, Guido, è una malattia molto importante che non molte persone conoscono è una malattia che istruisce i bronchi, quindi sarebbe un muco abbastanza denso che va a istruire i bronchi, quindi la parte respiratoria e va a intaccare anche il pancreas. Questa associazione nasce tramite una ragazza che crea questa LIF, quindi sarebbe Lega Italiana Fibrosicistica Abruzzo perché pensava che questa malattia fosse troppo nascosta, quindi era il caso di farla conoscere un pochettino al mondo per cercare aiuti. Cosa consiste questo aiuto che noi facciamo? Praticamente noi vogliamo aiutare questi infermieri, queste persone che arrivano dentro le case di questi bambini malati perché hanno bisogno veramente di molte terapie quindi hanno bisogno o di terapie all'interno della propria casa oppure all'interno degli ospedali però questo comporterebbe anche perdere giorni di scuola oppure un genitore non si può presentare a fare l'infermiere perché la vedo un po' dura, quindi noi vogliamo aiutare queste persone a sovvenzione di queste persone che vanno ad aiutare questi bambini all'interno quindi a domicilio, quindi questa è la cosa che ci tengo molto a precisare e in più questo evento che faremo il 30 di marzo, quindi sto dando la data esatta, il 30 di marzo oltre all'associazione ferbosticistica vogliamo aiutare anche un'associazione nel nostro territorio che è l'ANFAS abbiamo comunicato qualche giorno fa al proprio presidente Marco Cicchitti questa cosa, che lui è molto entusiasta e quindi ci darà una mano anche ad aiutare a fare questa serata. Ecco sì, io avevo paura di limitare la risposta per non tralasciare tutti gli aspetti peculiari e quindi davvero in bocca al lupo, complimenti anche perché poi lo spirito dell'associazionismo è proprio questo mettersi insieme per raccogliere tutte le idee, anche quelle più distanti, quindi in bocca al lupo. Grazie mille, un appello a tutti i miei concittadini, il 30 di marzo poi in questi giorni usciranno altre informazioni quindi adesso le organizzeremo bene, vi invito veramente tutti a partecipare perché è veramente per una buona causa e siccome conosco gli atestani confido in voi. Grazie e buona serata.